Sì, abbiamo ricevuto un'altra segnalazione, credo saranno diverse, per non parlare poi di quello che si dicono, se provi a contestare questa forma di sconto che è una discriminazione, non è informato. Non esiste proprio, ho già parlato proprio con un'altra consumatrice, che praticamente per lo stesso motivo, perché è stato anche pubblicato su una pagina Facebook, con il nostro marchio, questo slogan che è fatto in punto di vista, noi già ci stiamo adoperando, spero che al più presto facciamo cancellare tutto, diciamo già subito da web, e poi provvederemo anche noi alle nostre due, diciamo, cose, non so, non so. Purtroppo non posso dirvi altro, perché io sono rimasto sconcertato quando mi hanno detto di questa cosa, anzi a sinistra, in maniera espettiva ho reagito con un sorriso, perché è un po' stradato con i miei occhi, diciamo, dello slogan politico che c'era, che purtroppo è stato fatto con il nostro marchio. E adesso però vediamo, non so anche se intervenire, in che maniera si intervenesse, perché ho visto che c'era una cosa direttamente alla direzione. Non è una questione di colori politici, era la stessa cosa per qualsiasi altro... Le cose del genere li fanno con un marchio tutto loro privato, cioè non esiste mettere di mezzo CONAT e tutto il lavoro, diciamo, di coloro che lavorano sotto questa partita.